Ciao, ho il piacere di presentarti questo video sul corso più bello che facciamo in iConsulting. Si chiama Life ed è un'esperienza veramente unica, perché in soli 4 giorni abbiamo racchiuso le più efficaci strategie di miglioramento personale che tu possa trovare. Strategie che vanno dal miglioramento personale all'autostima, al proprio benessere, fino ad attirare ancora più successo e ricchezza nella tua vita. E se stai seguendo questo filmato, probabilmente sei una persona che in qualche modo è alla ricerca di qualcosa per migliorare la qualità della propria vita, o comunque hai capito quanto sia importante non smettere mai di imparare e di crescere. E il Life è l'opportunità per fare questo. E quindi, mentre ti godi liberamente questo filmato e ti lasci trasportare all'interno delle emozioni del Life, tieni la mente aperta, perché la mente si sa, è come un paracadute, funziona molto meglio quando è aperta. È un'esperienza di vita, è difficile da raccontare, perché è come raccontare il gusto di una fragola. Come fai, devi mangiarla. Io sono la terza edizione del Life e ne sono stato entusiasta fin dalla prima. Sono delle prove che poi ci permettono, ovviamente nella vita di tutti i giorni, di vivere meglio. I risultati del Life coincidono spesso con i risultati che le persone vogliono ottenere. E dunque, se le persone si mettono in gioco, si mettono in discussione, hanno voglia di crescere, i risultati del Life sono garantiti. Perché facciamo quello che facciamo? La risposta è una sola, per provare delle emozioni. Per avvicinarci alle emozioni che ci fanno stare bene e per allontanarci dalle emozioni invece che ci limitano, ci ostacolano. E le immagini che stai per vedere sono di persone che si sono date il permesso di vivere profondamente e liberamente le emozioni che hanno provato, mentre stavano vivendo il Life. Non è usuale vedere persone che ballano insieme, si abbracciano o lasciano scendere una lacrima quando se la sentono. Ma non è tanto importante come lo fanno. La cosa più importante è che alla fine del Life si sentano più libere, più leggere e di conseguenza più sicure di andare verso i loro sumi. Immagina come potresti sentirti nell'essere sicuro di poter canalizzare in ogni momento della tua vita le emozioni che provi, indipendentemente da ciò che accade e poi far accadere ciò che vuoi. E qui è stupendo, è stupendo perché sei libero, ti abbracci, ma non è una cosa superficiale, senti che poi c'è dell'energia, c'è dell'amore che trasmetti. Ho capito che devo parlare molto di più con mia moglie, molto di più con mia figlia, e molto di più con tutta la mia famiglia perché è giusto parlare, è giusto avvicinarsi perché l'unica cosa che tiene insieme la famiglia è l'amore. Sono stata decisamente favorevolmente impressionata dalle emozioni che vengono fuori da questo corso, che uno le vive anche se partiva dal presupposto di volerne rimanere completamente al di fuori. Ti è mai successo di fare fatica a prendere una decisione? Se la risposta è sì, è perché non hai mai avuto chiarezza su quella che è la cosa più importante della tua vita, cioè la consapevolezza di quelli che sono i tuoi valori. I valori sono la risposta alla domanda che cos'è più importante per me, e soprattutto quali sono le regole che fanno sì che questi valori vengano soddisfatti oppure no. A Life avrai l'opportunità di lavorare proprio su questo, di allineare i valori alle credenze, alle convinzioni più profonde, in modo da tracciare una rotta diretta verso i tuoi sogni, verso i tuoi obiettivi, verso quella che noi chiamiamo la mission personale. E inoltre avrai la possibilità di sperimentare quelle che noi chiamiamo le prove speciali, esercizi come la camminata sui carboni ardenti o il tondino di acciaio, che difficilmente dimenticherai. Sono prove che ci danno la possibilità di toccare con mano quale potenziale abbiamo dentro e come possiamo esprimerlo. Certo, ci si chiede come mai, a cosa serve camminare sui carboni ardenti, e non è una cosa che di certo metti sul curriculum. La verità è che ci serve a dare un riferimento alla nostra mente. Quando vogliamo qualcosa, anche se la riteniamo difficile da realizzare o addirittura è impossibile o ci fa paura, ebbene noi possiamo attraversare questa paura, arrivare dall'altra parte ed essere consapevoli di aver realizzato qualche cosa di veramente importante per noi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Mi sento più sicura e quindi questa sicurezza la porto sul lavoro e ho ottenuto dei risultati che prima non riuscivo ad ottenere. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!